Mila Juventus 2-0 Il Milan riadrezza il brutto KO in Champions a San Ziro battuto 2-0 una Juventus sempre più lontana dalla venta raggiunta invece dai rossoneri che affiancano per ora Napoli e Atalanta ci prova subito quadrato in diagonale poi due pali colpiti da Leal il primo tempo di tacco su azione spettacolare raddoppio al cinquantaquattresimo Diaz al cinquantaquattresimo con errore Di Vlauric Semina e in sacca nel finale Juve con Ken salva Calulu origini D'angolo ventesimo il secondo tempo con un destro da fuori trentaquattresimo Mech recupera rossoneri avanti al quarantasesimo con Tomori che controlla e dribbla sfiorando il tre a zero Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale campanella notifiche e un commento Ciao